Innanzitutto grazie, grazie agli organizzatori ed è un grazie che quest'anno vale doppio perché io non ne posso più della vita a distanza, della politica a distanza, della scuola a distanza, del tipo a distanza, l'amore a distanza, presenza, scusatemi a ritardo io odio arrivare in ritardo ma oggi era una giornata non partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto lei ovviamente adesso va a casa, mi ha detto sì stia tranquillo, passo prima da Aguilar a Savazia, poi da Formello e finisco a Terracina, ma la sera arrivo a casa e quindi ci tenevo troppo a essere qua e quindi un po' dolorante, un po' membricitante però è bello esserci per viaggiare tra le idee